Un giorno il tuo padrone tornerà da te, attendi pazientemente, hai ragione, anche se il lungo sonno gli ha offuscato la memoria, sono certa che un giorno, prima o poi, tornerà da te. Sacerdotessa reale di Irule, che cosa hai intenzione di fare adesso? Quest'arma, la spada suprema, mi ha aperto gli occhi, sento che c'è ancora qualcosa, qualcosa che io posso fare. Sei diventata forte, sacerdotessa. Grande albero Deku, ti prego, quando lui verrà qui potresti riferirgli le mie parole, perché io... No, ascolta, le parole che hai in serbo per lui non dovrebbero forse germogliare dalle tue labbra? Sì. 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 Sì.